non so se registra ecco salve a tutti questo il view paper di catalogo avont e catalogo 7 con una tinta labbra a specchio molto lussuosa e molto brillosa non è matt è proprio luminosissima è bella 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 vi ricordo che i prezzi potrebbero variare rispetto al catalogo normal meno che questo non sia il catalogo anche perché questo è molto simile al catalogo ecco scelta 15 no quanti una delle ultime possibilità di acquisto eyeliner 2790 ho scelto per ciglia waterproof mascara power stay che dura lungo lungo 24 ore tinte labbra al bacio che durano 16 ore smalti 25 euro se mi carica bene che purtroppo queste sono le palette comunque i trucchi power stay sono fantastici perché durano veramente a lungo e occorre per struccarsi il l'acqua micellare ora prodotti l'hanno perfezionato sono ente ottimi ecco avontro infatti dura tantissimo il trucco per struccarsi i ragazzi ci vogliono tre labbra estive scusate i messaggi ma a data porte fanno compagnia anche quelli anche questo è molto resistente dura parecchio un trucco è mettere un po' di spray un po' di fondotinta può spray per il trucco quando è asciutto metterci la matita e io ci metterei prima tutta la matita sulle labbra non solo il contorno e poi dopo passarci alla tinta o quello che volete tutti i pennelli poi c'è la possibilità di aggiungere il carrello di fare l'ordine direttamente eccoci qua i rossetti color trend una linea veramente giovanile praticissima poi costa anche pochissimo non è male certo non è che durino tanto ogni tanto si blocca buongiorno per chi ama un trucco matte per chi ama invece un trucco più lussuoso cioè a new di più però un trucco più professionale più preciso poi c'è la linea distilleri che poi vedremo ecco clean che è stupenda parte i colori poi sono tutto vegetali naturali cioè analergici diciamo cura della pelle con cleanser per pulire bene che è fantastico poi c'è lo shot che è una bomba di vitamina C fantastica io consiglio tutta la linea è veramente eccezionale poi ci sono i detergenti cura della pelle se va avanti ecco queste sono le due maschere una maschere protettiva c'è una maschera gold e la maschera platino ecco li qui io un po' so allargare perché purtroppo se non salta vedete cosa fa ecco ora non ritorna più giù vabbò eccole qui che vanno tolte dal basso verso l'alto poi c'è questi che sono per il mare profondamente mi si è allargato ora io non so come farò a restringerlo però qui c'è un'offerta chi ne acquista uno c'è il secondo a 9,99 c'è tutta la linea new è bello la batteria questo non è questo è il doppio mi raccomando questo è un tiziano questo è la new perizio questa è la linea mission per il rituale giapponese ed è fantastica sia la mission Y che serve per idratare profondamente che la mission Eclat che serve per illuminare in modo fantastico sono proprio lussuose ma ne vale la pena di spendere i soldi perché veramente vale vale davvero ci sono anche le maschere della queste sono maschere coreane origine coreana che sono novità ora non ve le sto andare più di tanto però ci sono maschere illuminanti leviganti i dischetti deve essere l'ultima pagina no poi c'è il glove che è un guanto che è buono per per i massaggi ma anche per struccare è fantastico per rimuovere il make up però io mi trovo bene con con l'acqua micellare che ha mezz'ora per pelli sensibili poi qui è per chi è in meno pausa andiamo avanti c'è il set di coccole per la notte è 59 ed è a base di profumo lavanda perché la lavanda si sa che rilassa molto poi ci sono sette vari del superfood avocado yogurt e mele poi burro di cacao poi tre medratanti addirittura tre a scelta poi il massaggio qua c'è anche il modo in cui bisognerebbe lavarsi veramente le mani e poi il sapone e poi come mettersi il gel il gel che può essere di tre specie cioè la cosa è la formulazione unica però c'è quello in spray quello a tubetto da 100 ml e quello da 200 ml poi c'è il sole vabbè protezione solari la cellulite che anche questi funzionano in modo di dire perché tendono a ridurre o per non guarisci cioè per guarire ci vuole nuoto movimento bere molto eccetera andiamo avanti la depilazione che si sono rinfresce tutti i nuovi fantastici prodotti profumazioni fantastiche immunoi che hanno avuto successo i saponi liquidi tutti bagno schiuma qui è così grazie grazie tutte le spalle non vi fuoco e carite tutti i shampoo non più valsami eccetera poi tutta la roba di accessori di ciotteria i diffusori che sono fantastici la roba estiva ecco questi dinosauri in vista per bimbi per iniziare la scuola tutti i bijoux anche l'inserto dei costumi da bagno con tanto di taglie per misurarsi l'intimo di tagliare anche l'inserto in due di le due più in una più più quindi è più lo che non ci sia più questo è un country tutto per lui questo hanno detto che è ottimo poi cotonella non ne parliamo ogni tanto salta tutte le vacanze Capri, Portofino, Toscana eccetera questi sono quelli nuovi che vessi celebre questa è l'offerta di Pesito 33 euro questi devono essere francesi mi ricordo che chi vuole acquistare un EDT può farlo però perché se c'è Poul Blanc è buonissimo, è delicatissimo vi consiglio di usare anche oltre alle fragranze anche le creme le lozioni corpo per insomma far durare di più l'essenza io invece l'offerta però ho acquistato e c'è lo spray la borsetta se mi ricordo l'ultima opportunità d'acquisto della casa corallo e così si finisce la casa che poi catalogo casa è anche da parte ecco qui è finito nota importante con alcune offerte potrebbero variare dalla versione stampata quindi l'ho accontentato il consulente ciao a tutti